Una cinquantina di imbarcazioni coinvolte, poco più di quattro ore in acqua e un meteo del tutto favorevole a fare da cornice. Domenica 13 settembre, l'Avas, l'associazione velica Alto Sebino, ha dato vita alla 48esima edizione della Lovere Taverno La Lovere, storica regata del Lago di Seo. Buona la partecipazione al primo evento post-covid organizzato dalla società presieduta da Lino Locatelli, aperto a tutti i regatanti di monotipi a deriva, a chiglia o cabinati. Una giornata perfettamente riuscita in attesa di ospitare a fine mese il campionato italiano della classe Contender che per tre giorni animerà il Sebino. La Lovere Taverno La Lovere è una regata storica, è arrivata alla sua 48esima edizione, è aperta alle classi crociera, bulbi e cabinati e anche alle derive. Abbiamo avuto una buona partecipazione nonostante questo sia un anno particolare, la prima regata che teniamo dopo il covid, quindi 13 imbarcazioni cabinate, una decina di imbarcazioni derive e tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di regolarizzare la posizione FIV, che erano una ventina, hanno partecipato dopo la partenza ufficiale. Quindi sostanzialmente avevamo dalle 40 alle 50 imbarcazioni in acqua, che è una cosa molto importante per questo anno. Anche il meteo è stato favorevole e infatti la regata che di solito dura anche 5 ore, è durata meno di 4 ore perché c'era un vento favorevole e bello teso su tutto quanto il lago. A breve termine, vale a dire fra 15 giorni, abbiamo il campionato italiano della classe Contender che è una deriva e che è molto partecipata. Speriamo di avere anche degli stranieri, in modo tale dura tre giorni. Mi auguro che il meteo ci sia favorevole perché un campionato italiano è sempre una regata importante. Sicuramente penso che quest'anno per noi è un onore, un piacere avere questa manifestazione che penso che è un po' anche una ripartenza per il mondo della vela. Voglio ringraziare il presidente Locatelli che ha voluto organizzare questa regata, nonostante il periodo difficile, ma che deve essere anche un punto di partenza per un nuovo inizio dell'attività velica sul lago di Zeo. Presente in occasione delle prime azioni anche l'assessore regionale Lara Magoni. Ho voluto esserci perché è una regata storica, come dice lei, al 48esimo anno, per cui veramente un evento importantissimo non solamente per il lago di Zeo ma per tutti noi. La promozione passa attraverso queste situazioni molto importanti, anche perché per la crescita dello sport sono assolutamente essenziali queste iniziative. Vorrei quindi ringraziare il presidente Linio Locatelli per questa passione che ci mette, ma anche l'amministrazione comunale che sta lavorando molto bene per il rilancio del nostro Alto Sebino. Quindi un applauso veramente a tutti quanti per questa grande opportunità non solo sportiva, ma di rilancio di una località che merita tantissimo. Grazie. Grazie.